Samsic per Nairo Quintana e attenzione perché dietro intanto un uomo era riuscito ad evadere dal gruppo si trattava di un uomo della Bora Hansgrohe e doveva essere credo Schelling, l'olandese Schelling e attenzione perché sta rientrando, sono nell'ultimo chilometro e non sono lontani neanche gli altri due intanto è rientrato Schelling che ovviamente non può far altro che andare dritto, non può far altro che andare dritto Ide Schelling, l'olandese della Bora Hansgrohe, ecco lanciata la volata con Michel Allanda che è in la seconda posizione rischia di piantarsi un po' adesso Ide Schelling, prova ad intervenire adesso Bokemolema con Van Sevenant sulla sua ruota Bokemolema con Van Sevenant che ha la possibilità adesso di portarsi davanti ed è proprio Van Sevenant che va a vincere davanti a Bokemolema l'edizione numero 43 del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano un finale davvero molto bello e emozionante con i vari piani tattici che hanno rischiato di essere... è ria...